Allora, introduco il seminario che sarà svolto da Andrea Morgante, ringraziandolo per averci concesso. È stato abbastanza complicato l'organizzazione di questo seminario per la logistica, perché Andrea vive e lavora a Londra, e quindi grazie a Michele Fiorentino che ha organizzato l'incontro siamo riusciti ad avere oggi questo seminario, che per voi è molto importante, perché è una testimonianza di un designer attivamente impegnato, ora vedrete nelle attività professionali, con una qualità degli esiti molto alta. Il mio è solo un saluto, è un'introduzione dovuta anche da un punto di vista istituzionale, poiché sia il magnifico rettore, sia il direttore del dipartimento, entrambi impegnati, l'uno in una conferenza a Bologna, l'altro in una campagna di scavi. In Grecia mi hanno chiesto di portare il loro saluto ad Andrea, ringraziandolo per questa importante attività che svolge per i nostri corsi di laurea. Lascio a Michele il piacere e l'onore dell'introduzione. Grazie a tutti per essere qui oggi, studenti sia italiani che stranieri, so che siete in tanti. Oggi è un grande onore e sono anche un po' emozionato a presentare Andrea, che oltre ad essere una persona che ha raggiunto un livello di carriera molto importante, per cui per voi deve essere anche un riferimento e anche un caro amico. Andrea è di classe e si è laureato nel 2000 in architettura presso l'Università di Ferrara. Dopo un breve periodo di lavoro in Italia è andato a Londra, correggimi se sbaglio Andrea, io ho studiato il tuo curriculum, e lì ha fatto gran parte della sua brillante carriera. e la cosa interessante è che lui è stato anche ora una sua azienda di progettazione e di design che si chiama Shiro Studio, ma ha anche militato e è stato direttore di un'altra azienda, Future Systems. La cosa bella è che negli anni ha lavorato sia in termini di architettura che di design, a vari livelli e con una grande capacità di adattarsi a vari contesti. E di fatto ha anche lavorato non solo a progetti inglesi e quindi internazionali, ma anche a progetti italiani. Quindi il bello è che è tornato all'ovile in Italia con progetti con Alessi, Armani, Ferrari e tanti altri che vedrete. Quindi diciamo il mondo ti permette poi di rimetterti in gioco proprio nel tuo paese. Considero e ringrazio la professoressa di Roma e anche il direttore per aver permesso questo evento. L'organizzazione non è stata facile purtroppo, quindi ringrazio anche chi ci ha aiutato nell'organizzazione, la professoressa Scarcelli e la dottoressa Mariani che sono qui. Faccio solo una considerazione veloce sul fatto che io e Andrea siamo amici di infanzia e ci univano due cose. La passione per il disegno, quindi per disegnare su carta, disegniamo tantissimo, e per il windsurf. Queste due passioni è bello vedere a distanza di tanti anni, oltre che un'amicizia che è, lo dico veramente con emozione nelle parole, che è rimasta viva ed è rimasto vivo la passione per il design che si è evoluto in Andrea nella progettazione con strumenti CAD molto avanzati e anche del windsurf, lui è stato un po' lontano dal mare rispetto a noi, però è riuscito anche a convogliare questa passione nella creazione di forme che spesso si ispirano al mondo della nautica, al mondo del mare. Quindi il messaggio che vi voglio mandare è di seguire le vostre passioni, poi sono sicuro che Andrea sarà altrettanto emozionante nel descrivere come è arrivato ai suoi risultati impressionanti. Grazie Andrea. Faccio una precisazione. In realtà io e Michele eravamo due sicchioni a mare, nel senso, non sono italiano come si traduce nerds, perché sì, si faceva in surf, ma in realtà già da forse 15 anni avevamo, eravamo anche affascinati da materiali, mi ricordo il Kevlar, fibra di vetro, fibre aramidiche, Mylar, ci ha offerto già qualcosa che poi il destino ha voluto che diventasse un po' anche il nostro mestiere, comunque, giusto per chiudere la parentesi. Grazie professoressa di Roma per la presentazione, non sapevo fosse così difficile avermi qui, perché per me non è un sacrificio, anzi, torno anche la settimana prossima e ancora quella dopo, quindi è un piacere essere qui. Grazie Michele per l'introduzione sentimentale. Ho un po' di slide, cercherò di andare abbastanza veloce, perché non voglio neanche intrattenervi troppo, dopo un'ora e mezza il cervello va. Quello che vi faccio vedere è il mio mestiere, quello che faccio tutti i giorni, ma faccio anche un passo abbastanza indietro, perché voglio condividere con voi anche cosa spinge a fare il nostro mestiere, che non è il mestiere più facile, perché ricordiamoci, il designer, voi siete stati studiando industrial design, immagino, operiamo in un settore che è super saturo, nel senso fare qualcosa di rilevante, che sia funzionale e utile, in senso su tanti livelli, alla società è sempre più difficile, quindi credo che quello che sia importante è trovare una narrativa e una forza d'animo che deve andare oltre il mestiere normale, perché altrimenti non lo si fa bene. Quindi cercherò di condividere quali sono anche i miei parametri più profondi, oltre all'aspetto tecno e funzionale e iconografico del progetto. E lo faccio partendo ringraziando i miei maestri. Io sono andato subito dopo la laurea, appunto come diceva Michele, nel 2001 a Londra, perché avevo voglia di lavorare e lì era un ambiente in quel tempo abbastanza, credo anche tuttora, molto in fermento che dava possibilità ai giovani già di metterle in mano sui progetti. E ho fatto bottega su due fronti. Uno è Future Systems, che era uno studio, adesso non c'è più, perché il fondatore purtroppo è mancato nel 2009, uno studio di architettura, ma anche di design, e più tardi anche con Ross Lovegrove, che sicuramente conoscete, che è uno dei miei eroi che ho avuto la fortuna non solo di avere come amico, ma anche come maestro e di collaborare per un paio di anni insieme su dei progetti a metà strada, ibridi, fra architettura e prodotto industriale. Allora, perché un po' la mia carriera non l'ho mai definita, non voglio neanche definirla. Stamattina, anzi ieri, andando in giro con Michele, si parlava ad esempio del teatro Margherita, di come un tempo, specialmente nella cultura italiana, non si studiava proda design, si studiava architettura, perché l'architetto era, come scrisse Ernesto Naston Rogers nel libro bellissimo che vi consiglio di leggere, Dal cucchiaio alla città, in realtà non c'è differenza. Noi purtroppo oggi dobbiamo specializzarsi, però c'è un fil rouge che collega le varie scale di progettazione che in realtà non si interrompe mai. quindi un architetto, un designer dovrebbe in teoria essere in grado di progettare sia il cucchiaio come una casa. Il che vuol dire che quando si fa un edificio si scende di scala e il buon architetto disegna anche la maniglia, la sedia. C'è un dialogo fra gli oggetti che secondo me è molto pertinente, importante. E questo poi l'ho ritrovato anche quasi per coincidenza negli studi in cui ho lavorato, ad esempio in Future Systems. Ian Kaplisky che era il fondatore all'inizio negli anni Ottanta era molto concentrato su un aspetto molto high tech che era in voga a suo tempo con uno spirito umanista, positivista e ad esempio partì a progettare elementi di tecnologia spaziale, strutture montabili nello spazio trasportabili con lo space shuttle fino a disegnare anche un tavolo pieghevole a bordo della stazione internazionale spaziale. E su certe cose vedendole oggi forse fa un po' fa un po' c'è tenerezza, però c'era un sentimento molto chiaro, molto limpido di coniugare un nuovo stile abitativo di provenienza prettamente escquisitamente industriale quasi aeronautico e questo per me ha avuto un'influenza molto importante. Poi con lo studio degli anni si è un po' più addolcito come linguaggio più domestico e ha creato uno stile che tuttora oggi è ancora comunque di riferimento. Ad esempio questo, quello rosa sulla sinistra è un edificio già ecosostenibile non si vede ma all'interno una turbina eolica per generare energia siamo nel prima anni 90 e a destra l'edificio come lo chiamano il cetriolo a Londra di Foster completato pochi anni fa quindi il linguaggio di Future System comunque era destinato a influenzare poi anche una nuova generazione di architetti per valore contenuti anche non tecnologici ma artistici. un edificio un edificio che purtroppo non ho fatto in tempo a farne parte come tendi progetto ma era il Media Center a Londra è un campo di critet e questa è la platea dedicata ai giornalisti ed è il primo edificio al mondo fatto in semi monoscocca di alluminio che è più facile dirsi che farsi in realtà è una tecnologia che è stata fra virgolette rubata al campo nautico aeronautico sia a livello di struttura ma anche di materiale e che io sape è anche il primo edificio che non solo potrebbe in teoria galleggiare ma soprattutto fatto da un cantiere navale in Olanda e ha vinto lo Stirling Prize nel 99 per appunto il contenuto innovativo. Un altro edificio su cui invece ho lavorato è Selfridges a Birmingham Selfridges è una grande catena commerciale di negozi e abbiamo creato questo edificio a me biforme ricoperto da circa 16.000 dischi di metallo che potrebbe sembrare appariscente innovativo ma in realtà nulla che non si è fatto prima in Italia nel Rinascimento due palazzi il Palazzo di Diamanti a Ferrara e c'è anche un palazzo a Napoli di cui mi sfugge il nome ricoperto da appunto una struttura fra virgolette asquame fatta di piramidi di marmo quindi mi piace vedere come tante cose ritenute innovative poi in realtà sono delle tracce ricalcate anche sulla storia bellissima anche più antica che fa parte del patrimonio italiano con Ross Lovegrove invece ho imparato tantissimo specialmente sulla scala del design e ho imparato il mestiere del designer non solo nella tipologia nell'etica e nell'approccio al lavoro ma soprattutto nella serietà nel creare oggetti e nella responsabilità perché ogni volta che noi creiamo un oggetto un oggetto che andrà si spera a influenzare nel bene nella vita delle persone a migliorare e contribuire alla qualità della vita ma soprattutto un oggetto che poi rimane nel mondo questa è la sedia forse più conosciuta che Ross ha disegnato per Moroso gli anni ancora in cui la plastica trionfava io ho fatto voto di castità a livello plastico perché credo che i tempi ormai siano esauriti per continuare a pensare di progettare in plastica e purtroppo ho peccato due volte ma da circa qualche anno ho deciso di non utilizzare più materiali polimerici o plastici o perlomeno che non possano essere riciclati almeno il 90% comunque il lavoro di Ross è anche un lavoro che è incentrato su quello che io poi ho definito l'artigianato digitale perché oggi ormai tutti dobbiamo essere come dire efficienti nella modellazione digitale ed è diventato un vero e proprio come dire un mestiere che quasi si abbina all'artigianato perché è difficile che voi come designer in un futuro di lavoro pragmatico si va in un'azienda con uno schizzettino sono cose che appartengono agli anni 80-90 tipo Stark ho avuto l'idea che l'azienda era inizialità oggi il dialogo tecnico e produttivo deve essere superfluido deve essere continuativo il che vuol dire dalla nostra parte avere una capacità anche di modellazione e di capire il materiale molto più esasperata rispetto a quello che poteva essere dieci anni fa con Ross poi ci siamo buttati in architettura lui fa solo design mi ha chiamato collaboriamo su architettura e abbiamo fatto un paio di esperimenti di off grid ovvero di possibili scenari abitativi in grado di generare la propria l'energia necessaria per il mantenimento dell'edificio della vita all'interno questa è interessante una struttura completamente in fibra di carbonio con pannelli di vetro e una turbina ad asse verticale per generare energia insieme poi a una commissione di pannelli fotovoltaici un progetto molto interessante qualche dettaglio della struttura che purtroppo non va infine perché erano gli anni in cui quando si parlava ieri del 2008 2009 quando ci fu la mega recessione economica in Inghilterra e quindi spazzo via molti clienti questo invece è la come si chiama Alpine Capsule la capsula alpina ci fu un cliente privato se lo dolomiti che sognava di avere un rifugio tutto suo in cui poter andare a dormire e vedere le stelle e il paesaggio di giorno e abbiamo creato questa struttura che voleva essere rispettosa per l'ambiente perché costruire sulle dolomiti dovrebbe essere in teoria quasi vietato e se lo si fa bisogna essere molto consci di dove si sta operando quindi abbiamo creato un elemento che potesse dismaterializzarsi in principio al grado di riflessione della pelle mentre all'interno un osmosi visiva che ti permette di vedere il paesaggio all'esterno e anche questo è chiaramente off-grid per cui associato a un elemento o vari elementi esterni che combinano di nuovo produzione di energia eolica e fotovoltaica che abbiamo chiamato power plant che è un gioco di parole non so come tradurlo è la fabbrica dell'energia però plant in inglese vuol dire anche pianta perché ha quasi un linguaggio abbastanza botanico e l'ultimo lavoro con Ross e per la galleria Anger Bicocca a Milano creare una zona bar contenuta in una pelle traslucida che anche essa usciva all'esterno per catturare energia solare attraverso pannelli solari questo per presentarvi un po' la bottega che ho fatto prima di aprire il mio studio e se devo se devo riassumere i parametri i cromosomi che appartengono alla genetica del mio fare sicuramente c'è di mezzo la tecnologia perché come come gli artisti denunciano in bene o male il tempo quotidiano odierno in cui si opera credo che noi progettisti dobbiamo usare la tecnologia per essere rilevanti per essere attuali senza tecnologia non c'è innovazione senza innovazione non ci sono investimenti quindi rischiamo di rimanere statici però la tecnologia in sé è un'arma a doppio taglio che deve essere maneggiata con estrema cura perché può anche essere uno strumento di denuncia di obsolescenza tremendo se noi pensiamo a tutti i telefoni e computer hanno una data di scadenza molto veloce dopodiché non si possono più né toccare né guardare quindi la tecnologia è un ingrediente necessario ma dobbiamo secondo me questa è la mia opinione anche mitigarla con parametri di natura molto più umanicentrica io ho messo mindfulness per me è molto importante in italiano si traduce la consapevolezza è quasi un atteggiamento contemplativo di essere consapevoli di tutti i parametri di tutto quello che noi nel bene nel male causiamo nei momenti in cui andiamo a usare un materiale una tecnologia e quello che sarà dell'oggetto in futuro e non ultimo la narrativa io sono un fortissimo sostenitore della narrativa perché senza la comunicazione anche in ambito tecnologico rischiamo di creare una forma per sé abbastanza sterile abbastanza non comunicativa quindi in tutti i miei progetti c'è sempre una narrativa che spiega il perché come si dice in francese la ragion d'être perché si fa questo progetto il mio studio non si chiama Andrea Morgante Design una cosa che odio perché il mio nome e cognome non dice niente ho scelto Shiro perché nel 2009 un mio carissimo amico tornò da Giappone mi portò questo libricino e per me fu una bibbia questo per dire che anche nel nome magari di quello che può essere uno studio di progettazione si può già inserire una narrativa non ve la spiego perché forse non è il luogo però già veicola dei principi che dei principi a cui ci sono delle tangenze molto forti nel mio modo di fare contenuti in questo libro Shiro che in scusate in giapponese significa bianco quindi è la purezza dell'intento creativo prima che venga un po' turbata dal dagli ostacoli poi produttivi che inevitabilmente ci sono questo è il mio studio a Londra è uno studio molto compatto dopo aver fatto esperienze in team di gruppo abbastanza larghe ho prediletto la scala più piccola perché io amo fare design io amo disegnare amo prendere in mano la tastiera amo usare Rhino in tutti i modi quindi è una scala diretta in cui ho ancora le mani sul volante ho ancora la percezione di come si informa un progetto in ogni singolo millimetro quadro e Londra rimane comunque ancora una buona città nonostante insomma tutti i più recenti risvolti politici perché c'è ancora una fortissima aria densa di cultura di gallerie molti designer architetti vivono lavorano a Londra e spesso ci si sovrappone ci si incontra ci scambiano opinioni ancora molto rilevanti e importanti faccio un ulteriore passo indietro prima di non voglio farvi vedere il catalogo dei miei lavori sarebbe abbastanza volgare cerco di aprire come dicevo prima cosa mi ha fatto diventare cosa ispira al mio lavoro da ragazzino si fa le varie fasi da ragazzino a un certo punto volevo diventare medico non so perché la mia stanza la mia cameretta sembrava la stanza di attesa del dottore per cui avevo tutti i post del sistema digerente scheletrico muscolare e mi ricordo di aprire una rivista quando avevo forse dieci anni e vedere questa immagine qui siamo nel 1967 ed è il primo trapianto di cuore effettuato da un chirurgo sudafricano Christian Barnard e per me fu un concetto pazzesco mi aprì la testa in due perché pensare che uno possa un umano attraverso un'equipe di strumenti di altri colleghi creare qualcosa di così incredibile è qualcosa che ancora mi porto nel mio lavoro nel senso non dobbiamo porci i limiti specialmente oggi che siamo di fronte alla quarta rivoluzione industriale con la stampa 3D e questo mi ha forzato anche a cominciare a guardare nel mio lavoro anche la bellezza delle cose invisibili ad esempio l'anatomia questa è una foto al microscopio elettronico della struttura ossea che probabilmente è una delle forme di ingegneria strutturale più belle più poetiche più efficienti che ci possa essere al mondo come sistema tessuto spugnoso e incredibilmente resistente a ogni tipo di carico quindi nell'anatomia mi ha come dire mi ha spronato a guardare a rimuovere i layer esterni a guardare la bellezza delle cose invisibili che è una componente importantissima credo del nostro lavoro dopodiché ci fu la fase voglio essere pilota come credo tutti i maschietti cosa che ancora un po' oggi cerco di fare in modo contenuto senza causare danni però l'aeronautica un po' come la nautica che ancora la porto dentro nel mio sistema di ispirazione visiva ma anche progettuale è un'enciclopedia di 20.000 volumi di materiali di tecnica di audace spirito innovativo di leggerezza c'è una poetica che secondo me è fortissima perché ad esempio questo è disegnato da Bart Rutan un genio della scale composites in California che poi aiuta molto anche la NASA sembra disegnato con intento in realtà non c'è nulla disegnato è il risultato quasi accidentale di formule di equazioni di aerodinamica e a me questo affascina molto perché spesso nel design in tutti noi pecchiamo di un egocentrismo estetico terribile e quindi secondo me come cura come antibiotico non farebbe male ogni tanto guardare il linguaggio delle cose scaturite da un atteggiamento molto più neutrale molto più tecnico è un'equazione un bilancio molto difficile da raggiungere però l'invito a guardare oltre a un'autoreferenzialità del nostro mestiere ovvero le riviste del settore ma comprate riviste di macchine di aeronautica di nautica di anatomia non lo so però è essenziale nutrirci credo personalmente anche di questi campi applicazioni parallele poi si va nell'aulico tecnologico nella sfera più perfetta che è quella dell'ingegneria spaziale in cui di nuovo i dettagli materiali usati secondo me questo è quasi un dipinto contemporaneo del rinascimento è un rinascimento tecnologico per me ha la stessa intensità di un tiziano come anche a livello solamente di palette cromatica è fenomenale e anche non dimenticarsi di sferi un po' più umili ma altrettanto molto influenti ad esempio solamente pensare non solo una sfera più primitiva e agricola però pensare anche ad esempio gli attrezzi gli attrezzi primordiali agricoli hanno subito un'evoluzione millenaria e in questa in questa evoluzione molto lenta ma sapiente e funzionale si possono anche ricavare delle forme che sono state testate appunto in secoli e certe forme certe ergonomie ancora regono a insegnarci che a volte anche rinventare la ruota non è non è non è così facile soprattutto bisogna avere l'umiltà di essere coscienti di avere la conoscenza di quello che è stato già fatto ed evoluto nei secoli della storia uno ad esempio degli oggetti io sono un po' un collezionista di cose strane e l'oggetto più di cui sono più geloso è una selce neolitica e per me questo è il primo oggetto di design fatto al mondo di industrial non direi industrial design di proda design perché se si va da nord Europa fino a nord Africa non si potevano comunicare perché erano tribù abbastanza stanziali e non c'era nessuna forma di comunicazione che andasse oltre credo qualche chilometro però nello stesso periodo questa forma di oggetti compare appunto praticamente in varie parti in varie aree della terra e quindi vuol dire che un problema ha creato è riuscito a generare una soluzione comune e unica e secondo me è uno degli oggetti più funzionali del design il primo mai creato nella storia e se voi avete modo di si trovano ancora questi oggetti anche a poco prezzo su ebay lo tenete in mano e tenete in mano quello che è stato fatto forse 12.000 15.000 anni fa da un altro essere umano per me è un valore anche la tattilità da cui il nome di questa lezione haptic che in inglese è difficile tradurre ma è il valore della tattilità e quello che noi progettiamo deve avere questa carica di voler toccare superfici oggetti per per instaurare un legame emozionale se riusciamo a fare quello il nostro mestiere è fatto e poi l'ambito naturale l'efficienza delle strutture in natura che abbiamo solo non solo da imparare ma di prendere come meta oggi creiamo molta complessità attraverso script algoritmi linguaggi generativi però basti pensare come la natura è maestra e ci insegna tutto un nido d'uccello la cosa forse più complessa da ricreare se volessimo farlo in 3D eppure è fatta in maniera quasi istintiva dalla natura senza aver nessun codice o scripting bene e non a caso parto con uno dei miei primi progetti che ho completato nel 2009 che si chiama Radiolaria e venne da me in studio un ingegnere un pazzo toscano che si chiama Enrico Dini che sostiene di aver inventato e creato un sistema che per la prima volta può stampare strutture autoportanti di scala architettonica e nel 2009 la stampa 3D era ancora limitata circa questa scala per cui vagamento una scatola di scarpe in cui si faceva la prototizzazione per fini di visualizzazione di modelli in scala sia architettonici che di design quindi l'occasione fu Ghiota ero abbastanza scettico all'inizio ma decidi di dar fiducia perché anche lui come con me condivideva molti spunti progettuali e umanistici della tecnologia e mi chiese facciamo qualcosa che non può essere che fatto altrimenti con la stampa 3D e per me chiaramente come avete già intuito sono certe strutture naturali come ad esempio la radiolaria che è una struttura una microstruttura in silice di origine abbastanza importante credo che i primi fossili risalgono a circa 500 milioni di anni fa e sono quelle strutture che solo una natura può creare e ho trovato un parallelismo con la stampa 3D perché è un processo di addizione della materia che in un certo modo credo condivida lo stesso atteggiamento della natura di come le ossa di farle crescere da un centimetro fino ad arrivare a un metro e portare carichi fino di 200 chili come in certi esemplari di animali quindi partiamo da questa struttura ho cominciato a schizzare una struttura simile a quella della radiolaria che so che sarebbe pressoché impossibile o con costi proibitivi attraverso altre tecniche parallele e letteralmente da Londra quando finì il mio file glielo mandai a Pisa dove c'era la macchina in un'email e questo è il modello di studio chiaramente giustamente stampato in 3D per dare un'idea della scala e della complessità del manufatto mando l'email e vado a trovare la Pisa e questo è quello che trovo nel capannone e forse tutte e due non sapevamo esattamente cosa stessimo facendo di preciso però radiolaria è destinata a essere un case study non solo nella fabbricazione digitale ma anche nelle potenzialità della stampa 3D oltre la scala della modellistica e rimane quando spesso incontro studenti o colleghi viene ancora usato come case study e credo solo questo è il 2009 solo forse qualche mese fa il primo ponte credo in Cino l'Olanda è stato stampato con la stessa telica quindi un precursore degli eventi e soprattutto un altro esempio di un italiano come l'ingegner Dini di straordinaria visione intelletto e saper fare qualche dettaglio della struttura quello che vedete in basso è ancora la griglia che sostiene come avviene la stampa 3D a piccola scala c'è una griglia strutturale che tiene poi insieme a livello di fondazione e il manufatto stesso e un'idea questa è una delle prime stampe di test della scala di una delle gambe che si appoggiano sul terreno chiaramente io sono molto legato al fare digitale e il nostro strumento è sicuramente la stampa 3D strumento di output che ripeto qualche anno fa era destinato a un modello non funzionale e invece è quello che è la quarta rivoluzione industriale la stampa 3D sta diventando un output funzionale un prodotto pronto per essere venduto così come fatto e MGX è una ditta olandese che fa parte del gruppo Materialize uno dei più grandi additive manufacturing al mondo e parlamo mi contattarono per fare uno dei primi prodotti off the shelf ovvero pronti da prendere e da comprare e portarsi a casa e pensai di fare qualcosa che come tipologia era ancora abbastanza inusuale ovvero una lampada da tavolo però usando il linguaggio che solo la stampa 3D può offrire ed è qui quello che dicevo prima l'esempio di narrativa volevo che il linguaggio fosse informato fosse ispirato anche al sistema quasi come me più osseo ad esempio che può essere simulato nella modellazione nella stampa 3D e quindi la lampada completamente funzionale con i vari snodi e soprattutto prende vantaggio della modellazione della stampa 3D anche per creare problematiche che in genere nel design con modi di fabbricazione più tradizionali è difficile risolvere tipo i passaggi cavi qui diventano come le osse in cui ci sono quelle piccole aperture in cui il nervo esce e si ricollega al muscolo o all'osso più vicino cambio scala perché ripeto io ho la fortuna ma anche il desiderio sempre di rimanere con due piedi in due scarpe ovvero il prodotto e l'architettura non facile però è quello che mi fa alzare dal letto la mattina e continuare a fare il mestiere è questa questa estrusione continua questo cambio di scala che in realtà non è un vero cambio e nel 2012 a Modena abbiamo completato il museo Enzo Ferrari che era una struttura un progetto molto ambizioso per tanti punti di vista potrei fare credo solo due ore a parlare anzi due giorni nel museo lo riduco a minimi termini fu un concorso vinto quando ero direttore F2 System il fondatore Jan Kaplitsky purtroppo scompare nel 2009 e il cliente ovvero la fondazione Ferrari mi chiede di proseguire completare il progetto in esecutivo direzione lavori direzione artistica e completamento degli interni cosa non da poco chiaramente supportato da un team di eccellenza di ingegneria sempre di base italiana e dei bravi contractors che non è sempre mai facile trovare ed era un progetto interessante perché era prettamente italiano da una parte l'edificio L questo è il render e questo è poi dopo qualche anno il risultato cosa che mi mi fa sempre piacere perché non è sempre non è sempre facile vendere render e poi chiudere il cerchio con l'oggetto che è come il render non è così semplice ma quello che è affascinante di questo progetto è che l'edificio L che vedete è un edificio vernacolare del metà 1800 tipico emiliano in cui nel 1898 fu un luogo di nascita di Enzo Ferrari e la fondazione Ferrari che era un ente pubblico nulla a che fare con Ferrari SPA ultramilionaria ma era un progetto pubblico in tanti punti di vista sia culturale che finanziario voleva abbinare una nuova struttura espositiva galleria per esporre l'automobilismo modenese e lo mostro questo progetto perché è esattamente quello che la lezione che Ernesto Nathan Rogers gli descriveva negli anni 60 da Cuccaio della città ovvero fa parte del tessuto modenese è inserito in una struttura in un tessuto urbano che a suo tempo era molto degradato la casa di Enzo Ferrari era usata da senza tetto dai migranti illegali era il parcheggio a gratis di quelli del quartiere per cui quando siamo arrivati nel 2004 c'erano macchine abbandonate copertoni c'era di tutto nessuno sapeva che era il luogo sacrosanto dove era nato fosse uno degli italiani più riconosciuti al mondo Enzo Ferrari e quindi parti dell'urbanistica sistemare e ricucire il tessuto urbano l'architettura ma io volevo che fosse un progetto all'italiana nel senso in cui anche il minimo dettaglio fosse pensato e disegnato quindi dalle sedie alle maniglie ai bagni ai lavabbi e quindi il museo ha dato anche carburante per concentrarsi anche in queste varie scale che secondo me poi completano l'architettura in maniera quasi necessaria direi e il linguaggio era anche quello di evitare di mettere la scritta museo Ferrari sulla facciata ma creare anche la copertura ispirata alle prese d'aria al cofano al giallo che è il colore in realtà ufficiale Ferrari e renderlo come elemento visibile per la cittadinanza in maniera immediata in maniera istintiva ad esempio quindi la creazione della copertura che porta sia luce naturale all'interno ma sono anche finestre collegate con dei sensori che permettono quello che si chiama free cooling ovvero di notte d'estate specialmente ad aprire segmenti delle finestre per fare entrare area più fresca e espellere quella più calda perché è comunque un edificio con fortissime credenziali di sostenibilità quindi non abbiamo usato area condizionata che in Emilia che non è dissimile dalla Puglia d'estate fa caldo ed è umido non volevamo area condizionata quindi abbiamo usato sistemi come free cooling e sonde geotermiche per controllare la temperatura interna e nota velocissima dimmi se mi sto perdendo troppo perché mi vado nota interna si torna la nautica il tetto che questo non è per rego gentil dà un'idea della scala e della complessità e ho rischiato la vita per fare sta foto il tetto ad esempio era una delle prime strutture tridimensionali ed è attenuta d'acqua non è uno schermo è attenuta d'acqua al 100% e come lo facciamo chi andiamo a prendere non si sapeva finché abbiamo trovato abbiamo cercato nella direzione nautica perché gli scaffi nautici che siano in compositi alluminio sono strutture sono delle opere d'arte tridimensionali che tengono devono tenere all'acqua e alla fine abbiamo trovato un personaggio che operava in Austria non avendo mare non so perché ma ha creato questo sistema di doghe che attraverso due passaggi di Dima possono essere deformate e ricreare superfici doppiamente curvate anche abbastanza estreme e questo ha risolto completamente il nodo copertura una fotografia una prospettiva interna in cui si è voluto ricreare non un museo dell'auto ma una galleria d'arte che quasi incidentalmente potesse ospitare anche auto in modo di offrire una proposta culturale non solo per il tedesco super appassionato di Ferrari ma anche di un pubblico più generico magari anche interessato a avere un'esperienza all'interno di una struttura architettonica contemporanea oltre che di automobilismo e piccoli dettagli e qui cominciamo a scendere di scala come ad esempio le pedane espositive le pedane espositive che è il primo museo al mondo che ha questo tipo di tipologia di approccio al display perché l'auto viene elevata a vero e proprio pezzo d'arte è quasi una scultura fatta di metallo alluminio e sono pedane che hanno richiesto parecchi mesi di progettazione per renderle poi completamente girevoli quindi uno studio di perno nonostante il peso della vettura e della struttura in sé notevole però offrendo una flessibilità ai gestori di cambio e di aggiustamento dell'esposizione delle vetture in sé come angoli dettaglio facciata e mi concentro sulla facciata perché è anche qui che poi si va nell'industrial design nel senso la facciata è nuovamente abbastanza inusuale tutto l'intero edificio è un prototipo scala 1 a 1 e la facciata è una facciata doppiamente curvata sono due coni due superfici coniche che si si susseguono e volevamo raggiungere il grado di trasparenza maggiore e di nuovo viene incontro l'ambito natico in cui abbiamo trovato dei sistemi di rigidimento degli alberi maestri che si basavano su dei cavi pretensionati e quindi invece di fare quelle classiche strutture che vedete poi nei grandi edifici nelle grandi vetrate di elementi metallici pesanti e soprattutto che vanno a assorbire vanno a mangiare la luce naturale dall'esterno abbiamo siamo riusciti ad avere una struttura che praticamente sono 22 mm di diametro i vigili del fuoco raccontavo ieri Michele non ci hanno approvato l'uso di fibre ramidiche che erano di origine navale ma non avendo il mare intorno il problema di carico al fuoco è più elevato e l'abbiamo tradotto in un cavo metallico pretensionato a 20 tonnellate e poi però si stima di creare la connessione che non esisteva fra il cavo e il pannello di vetro pannelli di vetro che sono all'incirca un metro e mezzo per due metri e mezzo quindi anch'essi con un carico statico abbastanza elevato ed è qui il disegno attraverso sempre poi dei partner della zona perché poi siamo in quello che viene chiamato la motor valley ovvero un'industria dedicata all'automotive e quindi l'abbiamo sfruttato in pieno e siamo andati da chi fa fusioni per pezzi di motore gli abbiamo chiesto di fare delle fusioni a cera persa per quelle mensole porta vetri quindi un processo bellissimo è una finestra che si apre dall'ambito architettonico al product design che comunque fa parte e letteralmente sorregge l'architettura e sono quei capitoli che a me hanno affascinato di più e mi hanno reso davvero è un privilegio poter far parte di un processo produttivo di eccellenza così simile e ad esempio questi sono i pezzi dopo aver modellato prototipizzato questi sono i pezzi in cera che vedete verdi alle spalle il pezzo di stampo che è un blocco di alluminio fresato a CNC quindi a controllo numerico e i pezzi di cera che poi vengono abbiamo fatto la simulazione perché poi quando si va in casting ovvero in fusione ti guardo perché a volte mi manca la parola ho il terrore di dimenticare in casting in fusione e c'è anche il discorso di raffreddamento quindi bisogna mantenere delle proporzioni molto specifiche perché nella fase di raffreddamento il materiale e le proporzioni dimensioni non si deformino quindi in questo caso l'operatore che simula il processo di raffreddamento con le varie temperature all'interno dell'elemento i pezzi di cera a grappoli vengono ricoperti di un materiale refrattario la cera viene poi persa nel momento in cui si va a versare l'acciaio liquido il raffreddamento e poi il pezzo al grezzo che poi verrà lucidato queste sono le mensole che si vede dalla forma dalla morfologia che collegano appunto i pannelli di vetro con i cavi metallici e qui in cantiere d'inverno vedete i cavi già stesi già fissati già pretesi e il fissaggio delle mensole un dettaglio della mensola porta vetro e man mano poi il completamento con l'ausilio di san silicone che aiuta sempre la tenuta d'acqua per tutte le situazioni ecco un dettaglio del cavo e del prodotto e per me questo è probabilmente uno dei capitoli più che più comunico con gioia del Museo Ferrari perché proprio dimostra quella bontà quel cambio quel salto di scala dal prodotto design all'architettura e soprattutto la fortuna che va anche ricercata di poter collaborare con delle realtà produttive di eccellenza di cui l'Italia ancora detiene il primato e l'effetto reso della facciata con l'abbondante luce naturale che inrore i vari spazi pubblici all'interno del museo si intravede la sedia che fu richiesta nella caffetteria nel ristorante zona bar museo Enzo Ferrari Cher in cui ho collaborato ho preso da parte poltrona Frau che storicamente è quella che ha sempre prodotto i pellami che hanno rivestito i sedili delle varie Ferrari Maserati però non volevo fare una cosa troppo automotive o fra virgolette borghese volevo nuovamente creare qualcosa di nel budget che era pochissimo qualcosa di funzionale di leggero e soprattutto innovativo per forma e contenuti e quindi di nuovo guardando la natura come certe nervature a livello in scala botanica traducono ci restituiscono delle superfici leggerissime pure in grado di sostenere ampie superfici quasi in maniera orizzontale e quindi la sedia che è uno stampo di vetroresina utilizza la nervatura non tanto lo spessore del materiale in sé quindi che già la vetroresina non è un materiale proprio bellissimo da usare per punti di vista ecologici ma quindi almeno usare il meno materiale possibile però usando delle nervature strategiche a livello strutturale per permettere sia la rigidità della seduta e anche con lo studio della nervatura di permettere anche un grado di flessibilità dello schienale e ultimo dettaglio in scala macro del museo è la maniglia perché poi se ci si pensa la maniglia è la prima superficie di contatto che si ha con un edificio non si vanno a toccare i mattoni il cemento le vetrate le facciate ma si accede a un edificio toccando una maniglia quindi per me aveva un valore culturale enorme e volevo appunto che il museo avesse la propria maniglia nelle varie porte sia di ingresso che anche quelle secondarie e si chiama intake perché ero molto affascinato dal pensando sempre al linguaggio automobilistico ma anche eronautico le intake ovvero le prese d'aria è un cambiamento di superficie che dall'esterno si ripiega all'interno e porta un flusso d'aria all'interno per poi generare una combustione e volevo che la maniglia un po' riflettesse questa narrativa aveva questa abbiegatura di superficie che dall'esterno va all'interno inseriamo la mano e cominciamo a usare la maniglia quindi un qualcosa di molto anamorfico di molto umano al tatto le maniglie spesso sono elementi geometrici molto forti sono dei cilindri sono dei rettangoli che a volte male si sposano invece con la complessità della mano quindi volevo che fosse qualcosa di molto organico di molto dolce al tatto e soprattutto inusuale come sistema di apertura quindi è questo blocco apparentemente unico che in realtà si divide in due per poi dare il movimento di apertura al sistema di blocco sblocco e poi tutta la parte retro smontare le cose questa in realtà è il prospetto che più mi piace della maniglia perché poi si comincia a capire che è in pressofusione in lega si vede come i vari elementi si combinano ed è sempre secondo me l'aspetto più affascinante dei prodotti quindi l'invito a smontare con responsabilità non cose pubbliche cose vostre però per capire come i dettagli dialogano fra di loro e come si incastrano e funzionino e questo è uno dei primi pezzi in ottone poi siamo passati alla lega a Zamac e ultimo il lavabo del museo e in questo caso ho chiamato in campo un'azienda sempre di eccellenza del luogo loro sono un po' più fuori mano ma sono a Mantua sempre nel confine emiliano Agape l'Agape per me è un'azienda che se potesse fare i bagni farebbe le cose che Agape fa quindi con estremo gusto con estremo razionalità con una pulizia estetica e una sensibilità dei materiali quindi io da parte mia come narrativa sono partito nel dare forma all'informe al liquido che di virtù per struttura non ha forma quindi ho detto ma sarebbe interessante capire come poter dar forma negativa a un lavabo che spesso è di nuovo una forma molto rigida molto geometrica invece informarla su qualcosa un po' un po' più un po' più aulico come potrebbe essere una geometria generata dall'acqua quindi è un'armonia di superfici come tangenza continua complessa da fare ma che in realtà poi rivela una doppia concavità in cui il gioco praticamente narrativa sta nel creare un troppo pieno ovvero il forellino che se per caso riempite il lavabo non andate a riempire di acqua al vicino che capita sotto ma viene dal soppopieno che per la prima volta viene traslato sul piano orizzontale e quindi crea questo gioco di superfici continue e quasi erose dall'acqua e devo dire che fino adesso quasi a 10 anni di distanza rimane ancora uno dei pezzi design più non solo interpretati dall'azienda Agape in varie declinazioni come vedete a filo piano o anche inserito è fatto in crystal plant che è un materiale completamente di origine riciclata e riciclabile al 100% e ultimamente anche una versione fresata in marmo Grow è un orologio che ho disegnato per Alessi con partner Seiko in Giappone e quando con Alberto Alessi mi sono seduto per dire se poteva fare un orologio insieme ho pensato a scardinare il concetto e qui si riprende in mano la narrativa il concetto di orologio che credo il più delle volte è visto come una manifestazione di omacismo cioè strumenti che te li vendono per andare a 20.000 atmosfere quando poi magari fai il bagno al mare a profondità 35 centimetri oppure è uno status di non direi di ricchezza ma di un orologio che costa 5.000 10.000 euro non so quanto possa pagare un orologio volevo scardinare questo secondo me concetto abbastanza superficiale di avere un orologio e più pensare alla relazione che si ha che si può avere con uno come l'oggetto e plasmato come fatto ma soprattutto anche il luogo in cui in cui siede quindi grovo dire in inglese crescere e ho immaginato mi piaceva l'idea di un orologio che non è un assemblaggio di parti forti rigide meccaniche ma è quasi la crescita organica di un elemento continuo che dal bracciale diventi e si espanda per contenere poi il sistema meccanico all'interno ma soprattutto la coscienza la consapevolezza e quindi ritorno alla mia slide iniziale la mindfulness ovvero la consapevolezza che c'è una bellezza nascosta nell'anatomia e se pensiamo al polso è un punto di passaggio di complessità assurda bellissima di nervi di muscoli di tendini e di come credo che sia folle insensato mettersi cose troppo come dire troppo rigide meccaniche in un punto in cui è forse uno dei punti più sensibili del nostro corpo quindi un atteggiamento di gentilezza di bontà di tolleranza con il nostro corpo è un oggetto che come pochi altri indossiamo praticamente 24 ore al giorno e quindi un linguaggio organico di crescita di materiale è un silicone come si dice analergico quasi di grado chirurgico come qualità di materiale e questo linguaggio questa narrativa di qualcosa che cresce dal bracciale quindi questi sono i primi render le prime modellazioni in cui ho esasperato questo rigonfiamento e questo sistema di linguaggio visivo che rende l'idea della narrativa quindi la partenza del braccialetto che poi appunto si espande e il primo orologio in cui tiene anche lo stesso linguaggio coerente anche sulla parte trasparente del vetro secco non ha apprezzato perché si lamentava tipo che non riuscivano a leggere l'ora che in Giappone i treni partono a secondo dicono ma in Italia è diverso quindi se anche non vedi bene la lancetta del minuto non perdi il treno però era una sfida interessante perché ad esempio a sinistra la parte più scusate a destra quella più originale ed esasperata come geometria come nervatura ci ha forzati a guardare ad un approccio parametrico per capire come andare a influenzare la geometria del vetro tenendola trovando quel compromesso di lettura di trasparenza di diffrazione del vetro lettura delle lancette per poi andare a esasperare in maniera graduale nella parte invece meno funzionale ovvero di bracciale e questo è il risultato finale dell'orologio che ha avuto anche esso un ottimo successo tanto che l'hanno venduto completamente per quello che oggi non lo indosso più perché è un dispiacere vedere quando la produzione industriale si esaurisce e non si ha più possibilità di ricomprare l'oggetto ma fa anche parte del ciclo produttivo delle cose e qualche scatto che facciamo sempre in studio perché anche la comunicazione iconografica ed è un invito se posso permettermi a essere sempre molto consci e responsabili di come poi si comunica anche il progetto perché specialmente oggi nell'era digitale la comunicazione visiva è fondamentale ed è un'arte in sé anche comunicare e quindi fotografare il progetto per poi comunicarlo al resto del mondo Megaptera è un vassoio il nome si spiega da sé però è un vassoio sempre fatto con Alessi e con Alberto Alessi dopo l'orologio volevo ci sono due narrative cioè quella in cui Alessi è un'azienda famosissima per cui come la si chiama la design factory sono passati tutti i più grandi designer storici quindi farne parte far parte della scuderia Alessi è sicuramente un orgoglio e un privilegio ma è anche difficile innovare e Alessi come tante aziende italiane sta sentendo moltissimo la competizione di aziende straniere soprattutto cinesi in cui nonostante ci sia il marchio italiano la produzione è fatta altrove a discapito poi del trattamento del personale per i posti quindi con Alberto si ragionava di usare materiale come l'acciaio che loro ancora producono quasi in maniera artigianale attraverso comunque macchinari nella rossede di Omenia e quindi l'utilizzo l'invito di usare il metallo e ho pensato di usare il metallo in maniera diversa sempre andando a ricalcare la narrativa dell'efficienza ispirata alla natura alla botanica alla deformazione superficiale che conferisce proprietà invece meccaniche di rigidità all'elemento quindi la creazione per farla i soldi più brevi di un vassoio che utilizzasse il 50% in meno di metallo rispetto al classico vassoione di portata a lessi e si è riusciti a realizzarlo proprio in virtù della nervatura dove si magari si spende un po' più di superficie però questo è lo stampo in azienda però grazie alla nervatura in sé alla forma della deformazione diventa un elemento rigido andando a utilizzare il 40% in meno di materiale questo è uno scatto è molto automovico come approccio quindi c'è sono due sequenze di stampi della lamiera che poi viene rifinita quindi qui è appena uscita dallo stampo e poi viene rifinito il bordo come tempi ci siamo Uluru è il nome di una formazione geologica in Australia però ben rappresentava l'idea dietro questo sistema di sedute pubbliche per uno dei più grandi produttori italiani di arredo pubblico che è Metalco in provincia di Treviso e uno dei miei eroi artistici è Isamo Nuguchi uno scultore uno dei più conosciuti nel periodo moderno ed è comunque la mia narrativa molto personale della deformazione superficiale degli elementi quindi si parte da una panca apparentemente completamente planare per poi andare a deformare la superficie e creare uno schienale attraverso poi elementi modulare che si possono scambiare fra di loro è un materiale molto interessante perché è un cemento fatto in Francia dalla Farge che è ultra performante quindi lo spessore sono 20 mm in grado di reggere carichi notevoli e anche l'idea di ogni tanto lasciarsi andare al gioco di creare specialmente nei parchi nei luoghi pubblici anche non solo sedute per gli adulti ma creare una specie di micro parco divertimento urbano anche per bambini che si arrampicano e possono giocare con queste ondulazioni e cambiamenti di superficie ma soprattutto la modularità il fatto che si possono interscambiare i vari componenti e creare quasi fra virgolette un paesaggio infinitamente componibile e anche il cestino sempre con gli stessi parametri di deformazione di superficie qualche dettaglio che dimostra appunto la bontà strutturale a discapito dello spessore del cemento però spesso le aziende non vi danno retta nel senso ci sono molti parametri molti ostacoli produttivi per cui se avete un'idea buona non aspettate non inseguite per 20.000 anni l'azienda che vi trovi che vi produca il disegno che volete spesso bisogna anche fare una self production ovvero ingegnarsi e fare anche specialmente ora che le possibilità produttive col digital fabrication sono a portata di mano ma anche di portafoglio anche investire in proprie linee da sé disegnate e realizzate questo feci qualche anno fa ero molto innamorato tuttora del marmo e volevo lavorarlo con fresa numerica per creare delle forme ispirate le crateri della luna e quindi creare queste forme di concave e anche il gioco di parole mare tranquillitatis quindi il mare in sé con le varie ondulazioni e a differenza di quello che spesso si fa nell'industria del marmo quando si fa un'operazione di fresatura controllo numerico che poi viene lisciato viene reso una finitura di polish che nasconde la traccia della macchina come se l'avesse fatto l'artigiano e questo per me è una mancanza di rispetto sia per quegli artigiani che hanno la capacità di creare quei manufatti ma soprattutto di nascondere il linguaggio il processo di manifattura che è importantissimo quindi uno dei primi che ha lasciato il segno della fresatura come parte integrale del linguaggio del manufatto per cui si capisce che è fatto da una fresa robotizzata e Enea riflette un'altra mia passione di qualche anno fa quando facevo volontario per il 118 a Milano e fu un'esperienza a parte l'aspetto umano ma un'esperienza che mi misa contato con l'attrezzatura medica d'emergenza e la bellezza tecnologica che non vi auguro di scoprirla in maniera imminente però esiste in tantissimi dispositivi e ho sempre pensato che il design è molto e lo è molto referenziale molto egoista e volevo che ci fosse una componente nel mio lavoro che riflettesse anche l'aspetto un po' medicale creando un bastone innovativo è un bastone che non solo ha delle innovazioni a livello ergonomico ma è anche un elemento che se vado un attimo volentieri un po' avanti ha delle funzioni di riposo su superfici e soprattutto su pavimento per cui è il primo bastone che sta in piedi da solo e questo non è un dettaglio inferiore minore perché uno dei problemi di persone che hanno problemi di ambulazione e quindi hanno bisogno di bastone è il fatto che se il bastone cade è molto difficile a livello di postura e di flessibilità muscolare per l'utente di poter riuscire a raccogliere il bastone da terra quindi Enea come bastone propone una soluzione a questa limitazione attuale dei prodotti ma creando anche un linguaggio più contemporaneo nel senso non è solo la persona ultraottantenne che ha bisogno del bastone ci sono anche persone molto giovani che soffrono ad esempio di traumi temporanei o anche di artrite che hanno bisogno di usare un supporto ed è quasi un extroscheletro il bastone ci sono delle tangenze molto interessanti e deve essere dignitoso non deve manifestare una limitazione fisica deve essere una manifestazione di design come tu puoi scegliere fra 200 sedie perché non puoi scegliere fra bastoni di linguaggio più moderno e più dignitoso quindi questi sono gli elementi alle spalle del bastone Enea ma soprattutto visto che era un altro mio progetto autofinanziato autoprodotto scusate un dettaglio del manico il manico ha tre assi è anche fatto in modo per non solo l'appoggio sui pavimenti ma anche su superfici tipo muri in cui il bastone trova molto più equilibrio statico e io di nuovo ho coinvolto un paio di amici uno lavora da Zadid e un altro invece per gli ingegneri Arups che sono lo studio ingegneristico uno dei più strutturati al mondo con base a Londra ha detto perché non rendiamo anche il bastone in sé leggero ma facendolo con una coscienza delle cose belle affascinanti invisibili interne come la struttura ossera che non si potrà mai vedere almeno che non sezioni un osso ma a livello di struttura c'è e fa il suo mestiere quindi abbiamo sviluppato con questi due ragazzi questi due colleghi un algoritmo di generative design come si dice generativo che che ha preso gli stessi ingredienti strutturali visivi di una struttura trabecolare quindi spugnosa ossera e li abbiamo cacciati dentro il bastone e abbiamo stampato il bastone 3D e ho bussato questo ad esempio è uno studio strutturale fatto da Arup perché poi il tessuto forse si evince in questa sezione diventa più denso dove abbiamo individuato i carichi di stress più elevati quindi la possibilità data dal coding e dall'approccio digitale generativo di poter avere il controllo anche sulla densità degli elementi stessi all'interno e queste sono delle sezioni che dimostrano ancora credo spero in maniera più chiara la variazione di densità relativa nella parte più soggetta a sforzo ovvero il manico è nato così ho bussato a 20.000 porte di varie aziende di design che non le volevano sapere quindi però poi un po' di riconoscimento è arrivato ed è stato selezionato che è un grandissimo onore nel Bisley Design Award che è un premio conferito su base annuale dal Design Museum di Londra dove in genere da tutto il mondo prendono gli oggetti fra design architettura fashion e tecnologia più promettenti più innovativi e in genere ci sono aziende tipo Adidas che stampa le scarpe 3D c'è la Apple ci sono delle aziende fortissime di fianco a soggetti singoli come possiamo essere noi premiati riconosciuti per l'inventiva e la tecnologia accelero o ci siamo qua siamo più vicini a casa ed è una tipologia più di design che forse ci possa riconoscere PNA è però il nastro azzurro che è un mio cliente molto caro e storico produzione oltretutto qui da voi a Bari oltre che a Roma a Padova è la cosa che a me affascina sempre è che in Italia la Perone è una birra un po' come un'altra nel senso è una fra un milione mentre in Inghilterra a Londra è riconosciuta come un'eccellenza italiana a livello di qualità quindi oltretutto poi si sono anche inglobati con altri brand e sono il gruppo numero uno al mondo come turnover di birra quindi è una potenza mondiale non indifferente e di conseguenza mettono anche a disposizione in maniera molto generosa dei budget per fare dei vari esperimenti di design e ho avuto la fortuna negli ultimi cinque anni di collaborare con loro e di dare un po' di forma agli accessori che vanno poi a completare l'esperienza nel mondo Peroni e qualche anno fa mi hanno chiesto di reinventare il classico bicchiere Peroni che è abbastanza invisibile molto simile ad altri se non fosse per il logo e per me è stato un altro momento di cercare di investigare la possibilità di inserire innovazione in un qualcosa che di per sé deve essere semplicissima da fare e da fruire come un bicchiere e ho fatto un po' di ricerca nella birra chiaramente una ricerca molto dura che ha completato sacrifici però parlando che vari stabilimenti industriali si capisce che uno dei uno dei dei parametri essenziali della birra è la carbonazione ovvero la produzione di gas contenuta nel liquido e la carbonazione viene stimolata dalla ruvidezza delle superfici e quindi abbiamo creato attraverso l'uso di un vetro borosilicato fatto in Italia una superficie interna che non solo è rigata quindi dona come spero dimostri la foto una piacevolezza di luce di rifrazione di diffrazione della luce nel liquido ed eleva la raffinatezza del bicchiere ma soprattutto scatena e migliora la carbonazione ovvero la produzione incentiva la produzione del gas nel liquido che per un'azienda che cerca di produrre e di essere in opposizione leader del liquido elementi come questi per loro valgono molto e questo viene risolto dal design non da altre persone o altri campi quindi per dimostrare appunto anche l'impatto che un buon design può avere ed è un'altra occasione un altro micro capitolo di italianità e di tecnologia e di tradizione quindi da una parte ad esempio la fresatura della grafite del blocco di grafite dove il vetro viene poi soffiato a mano quindi un approccio di abbastanza digitale l'utilizzo di vetro borosilicato perché è uno dei vetri più resistenti più trasparenti più neutri anche al tato perché anche il vetro comunque ha se vogliamo disquisire nei termini più minimi ha un sapore quindi più neutrale più indicato per l'assaggio della birra ed è un vetro che in genere si usa nei laboratori chimici e che pochissimi riescono a lavorare e tradurre in un risultato più artistico e ho trovato questa bottega via di mezzo dall'artigianale e l'industriale vicino a Vicenza dove lavorano in maniera egregia il borosilicato e abbiamo creato quindi questa edizione contenuta limitata di nuovi bicchieri per Peroni e questi alcuni scatti del processo produttivo nel loro laboratorio bravissimi è venuta fuori un po' sgranata scusate questo è però Peroni mi ha incaricato di altri accessori che scorro velocemente come l'apribottiglie e per le aziende spesso è necessaria la narrativa per ogni nastro azzurro tutto gira intorno al discorso del nastro che per loro è importantissimo quindi come creare un'apribottiglie che nasce un po' dall'entità flessibile del nastro e quindi il mio solito adeggiamento di deformazione della superficie in questo caso abbastanza facile come narrativa perché se parte dal nastro lo si deforma appiattendo una superficie finché non diventa più funzionale diventa l'apribottiglie creato da ci siamo messi in partnership con Alessi e questa è una microfusione di metallo di inox quindi anche il processo simile ai supporti della facciata del museo Ferrari però in scala chiaramente più modesta e la creazione di un secchiello con proprietà termiche come si chiama la glassette ovvero ci hanno chiesto di fare un elemento contenitore per una bottiglia di volume più generoso credo che fosse di un litro in cui si potesse garantire la temperatura per mezz'ora quindi invece di fare la classica glassetta abbastanza noiosa estrusione di alluminio eccetera eccetera in cui ci spari il logo è cercare di ricreare come narrativa come si ricrea la sensazione di freddo attraverso il linguaggio tridimensionale e quindi l'ispirazione fu quella di generare sul modello della modulazione 3D come un blocco di ghiaccio che in maniera graduale parziale si scioglie quindi dagli spigoli vivi diventa una superficie più dolce più tangente a livello di continuità delle superfici che dell'idea del ghiaccio che si sta sciogliendo di conseguenza un po' la narrativa del freddo e della temperatura creato in stampo in PMMA quindi altamente riciclabile e sempre fatto in Italia da Alessi per Peroni è un po' l'insieme che rende questa credo spero un po' l'idea del ghiaccio che in maniera molto graduale dolce e lenta si scioglie per riverare una geometria molto definita lo stampo gli stampi per me valgono più del lavoro finito spero che anche voi un giorno abbiate la possibilità di valutare di apprezzare gli strumenti che poi vanno a creare il prodotto e hanno in loro una sapienza una valenza un valore che ripeto personalmente ha forse più spessore dell'oggetto in sé come bellezza e come anche manifattura dello stampo in sé e questo è un incontro appunto le varie fasi di incontro di sviluppo del prodotto da Alessi all'ultimo piano nel museo Alessi dove hanno tutti i prototipi fatti dal 1950 fino ad oggi quindi un posto molto suggestivo e bello per incontrarsi sempre per Peroni un evento in cui c'era il lancio non so se in Italia c'è di questo volume molto più femminile più raffinato più civile come volume e voleva appunto lanciare che questa cosa per loro abbastanza innovativa perché specialmente in Inghilterra le quantità sono industriali di birra che si beve e voleva andare l'idea di questo petit di questo volume compatto grazioso e 25 centilitri ho detto facciamo qualcosa che richiami il numero 25 e ho creato disegnato 25 micro capitoli di storia ispirata al design italiano all'architettura all'arte a tanti aspetti creativi paralleli non solo al design e li abbiamo poi restituiti in scala naturale 1-1 della bottiglia declinati 25 e 25 volte ed è di nuovo la sub narrativa anche di associare qualcosa tradizionale come può essere un marchio storico come Peroni all'ultimissima tecnologia disponibile come la stampa 3D e poi messi in esposizione al design museum questa è ancora la vecchia sede però nell'altro del design museum di Londra ultimissimo uno degli ultimi progetti che nasce un po' di rimbalzo al bastone che avete visto e di nuovo è l'invito e conferma che se avete una buona idea non aspettate non tenetela nel cassetto per sempre ma cercate il modo di farla e di buttarla nel mondo di esporla anche se non avete un'azienda perché poi dal bastone dopo qualche mese che lo pubblicai fu nella nella mostra del design museum mi chiamò per me il cliente sogno ovvero AROC vuol dire Arthritis Research UK che è uno degli enti di ricerca scientifica e caritatevole più grandi in Inghilterra che si occupa appunto di persone sofferenti di artrite e che loro stessi si erano resi conto che i prodotti per questa categoria di persone sofferenti a livello di mobilità fisica di prodotti disponibili era qualcosa di abbastanza deprimente e hanno anche loro capito come me che è un aspetto del design completamente sottovalutato di cui c'è in realtà molto più bisogno che disegnare lo metto anch'io una maniglia o una sedia o un vassoio e quindi per me è stato un capitolo molto importante della mia carriera perché per me è il cliente sogno in cui il design veramente se è fatto bene cambia la vita delle persone e soprattutto ridà una dignità che non esiste al momento per cui ipotesi a me è andato il sistema l'ambiente bagno entrare e uscire da una vasca cosa per noi forse semplice ma per chi ha problemi di artrite è una sfida enorme e questo è il punto di partenza che è abbastanza deprimente e poco dignitoso e la cosa bella è che ci hanno inseriti ci hanno divisi in vari gruppi e questo è il mio gruppo di persone in cui si comincia a parlare nonostante anche il mio background in ambulanza però si capisce a capire si comincia a comprendere nei dettagli le sfide che il cliente affida che sfida il cliente come autofinale user del prodotto per l'amore di Dio ed è un momento importante a prescindere lo sarà anche per voi capire anche esattamente la funzionalità richiesta di prima persona da un campione di persone e ripeto un'altra fase molto bella di questo progetto quindi poter parlare poter anche insieme disegnare e capire come evolvere la strategia del progetto non solo come forme ma anche come funzionalità e questa fu una prima risposta che è molto naturale ed è chiaramente evitare un qualcosa che sia medicale in bagno non vuole sembrare che è una specie di staccamento dell'ospedale nel tuo bagno per loro per chi soffre di attività questa è una cosa molto importante e quindi il design viene in aiuto viene in soccorso nel mio caso utilizzando linguaggi più naturali quindi lo scalino che aiuta a scavalcare l'ostacolo di 40-50 cm del bordo vasca quindi scalino importantissimo che lo rende quasi di 20-30 cm quindi gestibile che è una forma di sasso in inglese sasso un po' banale in inglese si chiama pebble che è un po' tipo sasso di fiume che ha una poetica della forma è molto dolce molto visivamente è un bellissimo oggetto con un bastone simile a Enea che ha più un linguaggio botanico di crescita che in realtà offre vari angoli superficie di appoggio nella transizione dall'esterno all'interno della vasca e viceversa e una renditazione dell'ambiente in cui appunto l'elemento in sé non è più medicale ma diventa quasi un pezzo di design nel senso che non per chi non ha conoscenza di quello che succede potrebbe essere invece un bellissimo bellissimo non lo so però interessante appendi asciugamani cosa importante anche per loro perché solamente l'oggetto di lo scenario di dovesse nella vasca quindi un ambiente abbastanza pericoloso eccetera eccetera e dover raggiungere un asciugamano che non è apportata già crea una situazione di pericolo e quindi l'oggetto va anche in questo caso a risolvere questo problema con queste escrescenze diventando multifunzionale e poi la controparte nella vasca quindi che riduce ancora maggior di più poi il sistema di sedersi che per la loro categoria è abbastanza un'impresa e ridurre quindi il gap fra la postura quella in piedi a quella seduta un secondo sistema è ancora ancora di più la narrativa è quella di dematerializzare il sistema medicale in qualcosa che invece diventa quasi contemporaneo e invisibile sembrano dei sistemi di design innocenti che vengono disguised vengono nascosti con varie mensoline ma in realtà quello che fanno portano tutti gli accessori del bagno a portata di mano quindi a raggio di braccia ma soprattutto alcuni elementi si snodano vanno ruota di 90 gradi come questa barra ed è un supporto fisico per sollevarsi quindi da posizione seduta a postura completamente retta dando un aiuto in più e poi dettagli chiaramente in cui qui facciamo il nostro mestiere di design in cui si abbellisce si rende molto più dignitoso e contemporaneo ogni singolo a particolare quindi varie superfici di appoggio e ultimo progetto invece una barra verticale che offre lo stesso sistema di grip di ancoraggio per il passaggio dentro e fuori e viceversa in cui vari elementi si snodano si ruotano su vari perni per offrire questa flessibilità di appoggio in vari scenari di postura e di alzarsi e sedersi dalla vasca offrendo poi chiaramente anche la possibilità di appendere asciugamani e tutti quegli oggetti che altrimenti rendono situazioni molto rischiose e pericolose a essere più sicuri a portata di mano e la dignità nel creare anche qui un po' l'artigianato digitale anche nel creare le forme che sono studiate sono pensate hanno consapevolezza non è un cerchio ma è un super ellisse deformato anche questo dà e dignità e dà e design anche nei più piccoli dettagli credo ultimissimo progetto sempre di di connubio fra digitale e artigiano ho avuto la possibilità di interfacciarmi con Rizogama che è un'azienda giapponese di lunga data che opera nella regione più famosa del Giappone Arita dove fanno le ceramiche tradizionali un'industria che però sta anche essa molto soffrendo rinchiusa nella sua tradizione non riesce a esportare cose più contemporanee quindi un'operazione di matrimonio fra la tradizionalità e designer con un linguaggio più contemporaneo che possono offrire dei prodotti più come dire appetibili per il mercato e quindi un grande onore lavorare con maestranze incredibili in questo caso giapponese e da parte mia utilizzando il classico linguaggio di deformazione superficiale modellata a 3D per poi renderla attraverso un processo artigianale in questo caso è qualcosa di ispirata una cosa a cui sento mia di buddismo di bilancio negativo positivo si chiama AUN è ispirato alcuni templi e linguaggio delle statue una bocca aperta una bocca chiusa una cosa abbastanza civica e cosmica non vi annoio però è questo dialogo di continuità e tangenza delle superfici che offre un piatto di portata per vari cibi in cui c'è una parte concava e una invece estrusa convessa più alta dal digitale all'artigianato che l'ho scelto per chiudere la mia presentazione proprio perché forse anche questa è la strada che per noi designer è quella più immediata e più vicina nel senso c'è un fortissimo ritorno all'artigianale perché da una parte le plastiche i modi produttivi sono diventano sempre più insostenibili per molti fattori ma anche c'è un ritorno alla consapevolezza quindi mi riallaccio alla prima slide il mindfulness la consapevolezza del materiale chi l'ha fatto da dove viene e credo che sia una delle sfide più belle per noi designer coniugare tecnologia e l'artigianalità il fatto a mano che come in Italia credo non abbia poche nazioni abbiano nel mondo grazie mille per l'attenzione allora Andrea ti ringraziamo tutti e penso che l'applauso ha reso onore a tutto il lavoro che hai svolto in questi anni io personalmente sono rimasto a bocca aperta forse anche molti di voi sul percorso che hai avuto soprattutto nelle ultime diciamo creazioni che vanno anche in una direzione del medicale noi anche qui al Politecnico abbiamo capito che quella è una strada molto da affrontare tant'è che abbiamo la facoltà dei sistemi medicali a ingegneria dove si occupa più di aspetti tecnici e abbiamo una serie di workshop sul medicale anche nel corso di Industrial Design quindi diciamo che ci fa piacere vedere tu che stai sulla prima linea ci hai dato anche manforte su quelle che sono le attività che facciamo ogni giorno con tutti i docenti del corso e adesso io vorrei ho voluto iniziare prima e quindi per finire un po' prima perché ci tengo che voi ragazzi anche in lingua inglese also in English please Andrea vive a Londra parla benissimo l'inglese quindi potete fare direttamente le domande in inglese quindi vorrei lasciare ci tengo che siate liberi di fare qualsiasi tipo di domanda soprattutto anche per un'eventuale carriera cioè Andrea ha preso la valigia e è nato a Londra cioè io mi ricordo eravamo in estate che lui mi sembra che proprio l'estate andava ogni estate andava a Londra quindi ha fatto dei sacrifici e quindi mi piacerebbe sentire delle domande da parte vostra quindi non abbiate paura a farle grazie 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 vieni vieni a farla a fare no 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 si si sente bene non abbiate paura se c'è qualche altra domanda potete già venire qui sul podio non vi emozionate ma che si la sentono tutti ok io sono una studentessa di design sono al secondo anno e ho apprezzato molto il suo lavoro però mi sono da subito fatto una domanda cioè inizialmente lei ha detto che molti designer peccano nell'egocentrismo cioè che spesso si percepisce più quello che io voglio far vedere piuttosto che la funzione cioè magari ho inteso male quello che lei ha detto insomma però in realtà penso sia comunque importante in qualche modo mettere la firma che non deve essere uno stile uno stilema ma deve essere piuttosto un modo di pensare quindi quanto è importante equilibrare queste due cose perché in realtà cioè non si dovrebbe insegnare a mettere la firma forse in un elaborato ma io penso che sia importante comunque in tutto il suo nelle opere che ci ha mostrato insomma si vede si percepisce che appunto però non è la forma è ciò che sta dietro la forma quindi ecco questa è la domanda quanto c'è da come si equilibra questa è una domanda tostissima che credo hai già risposto ci hanno detto hai già risposto tu nel senso è un compromesso io ho un'avversità nel mestiere che facciamo perché ripeto operiamo in un in un sistema in un mercato saturo che in realtà il designer è ridondante quasi come figura quindi da una parte cercare di essere il più oggettivi responsabili possibili però dall'altra parte giustamente ci spinge perché comunque è un mestiere creativo non è puramente tecnologico anzi e quindi è normale ed è giustificata ed è giustissima la componente personale creativa ci deve essere quindi è un bilancio è un bilancio che scegliamo noi c'è l'accezione del designer che fa dicevo prima lo schizzettino e fa un altro vaso per il mondo che ha bisogno disperatamente di vasi che si mette il cappellino l'occhialino e fa il designer quello un po' mi vergogno della categoria e poi c'è il designer invece bravissimo ma anche invisibile che fa parte di un'azienda che fanno prodotti bellissimi che però sarà sempre destinato a questo eroismo anonimo è un compromesso che dobbiamo cercare noi se spingere più o meno la firma la riconoscibilità oppure una responsabilità più anonima però è il bello anche della nostra strada nel senso una strada che scopri facendo e poi ti trovi come in un vestito più o meno comodo a indossare per tanti anni grazie grazie a lei applausi per la domanda che era abbastanza mi sembra molto intelligente e pertinente ovviamente io da ingegnere la domanda che faccio è completamente diversa però la cosa che mi ha attratto è che in ogni progetto che hai fatto diciamo nell'arco dell'attività hai messo sempre l'accento chiaramente diciamo sulla sull'aspetto del design del design io mi chiedo diciamo quanto e se innanzitutto se è quanto nelle valutazioni che fai quando devi fare un progetto di design la sostenibilità non diciamo economica ma la sostenibilità strutturale del componente del progetto che pensi influisce sulla realizzazione del tuo design o se è una cosa che viene diciamo semplicemente poi valutata a valle del progetto dell'idea o quanto diciamo la sostenibilità strutturale diciamo interviene fin dall'inizio nello sviluppo del design del componente del prodotto della struttura che stai realizzando o seppure un qualche cosa diciamo che viene semplicemente demandata ad altri a valle diciamo dell'ideazione ecco e poi diciamo in retroazione eventualmente migliorata corretta credo che anche qui è una cosa abbastanza personale per me ha molto valore perché ripeto ho studiato il mio percorso educativo si fonda in architettura e ho odiato tutti gli esami strutturali scientifici da statica a scienza delle costruzioni però poi me li ritrovo ho quella consapevolezza del materiale come deve reagire quindi per me è un motivo di orgoglio poter essere il più vicino possibile a quella consapevolezza però fa parte della tua carriera quindi architettura sicuramente aiuta ma è una cosa anche molto personale qualcuno più di altri ha una consapevolezza strutturale poi immagino che venga anche insegnata credo qui al Politecnico e a volte può essere motivo come nel mio caso hai visto alcuni progetti motivo già in prima linea nel caso del museo della Ferrari ecco quello che in caso mi chiedevo in particolare quando avete pensato alla struttura beh lì no allora in quel caso è talmente complesso che ho un puro lavoro di squadra quindi non esisto solo io anzi sono l'ultima nota del carro lì c'è un lavoro di equip di squadra fenomenale soprattutto con ingegneri in cui da una parte si insegue il risultato architettonico con consapevolezza strutturale e loro poi implementano con spesso originalità con soluzioni poi che si che sono quasi un matrimonio fra quello che voglio io e invece quello che la struttura ha bisogno è difficile da rendere quasi un processo mistico religioso come avviene però nel design è molto più facile nel senso quello che io odoro del design rispetto all'architettura è che il dialogo è molto più immediato è un palleggio fra noi designer e chi poi va a fare il progetto quindi nell'architettura poi c'è ci sono gli ingegneri strutturali ci sono gli specialistici illuminazione c'è la componente urbana di approvazione ci sono gli squali ovvero i vari contractor subcontractors è difficilissimo farla franca nel design invece la responsabilità è solo vostra nostra nel senso sei tu designer che devi sapere un po' la tecnologia conoscere come si fa e il produttore che ti dice possiamo fare o no e questo è il costo e questo eccetera eccetera quindi è un po' più un'equazione più semplice da risolvere ok grazie grazie a te mentre invoco qualcun altro a venire qui a fare domande volevo giusto dire che vedendo ieri con Andrea un po' il progetto del museo Ferrari mi ha colpito come c'era tutto un lavoro su quei piedistalli su cui giacevano le macchine che mi ricorda un po' una stanza delle bamboline con tutte le macchine poggiate su questi piedistalli quel piedistallo c'era tutto un lavoro solo quell'oggetto per far scendere la macchina vedevo un disegno dove c'era tutto lo studio sull'inclinazione perché quelle sono macchine sportive sono molto basse e quindi c'è anche tutto un lavoro che uno non vede immediatamente di tooling di attrezzatura di trovare le soluzioni anche ai piccoli problemi che apparentemente non ci sono e il bello di un bravo designer probabilmente è quello di rendere semplici le cose difficili quindi quando uno vede un ballerino bravissimo lo vede muoversi sembra facilissimo poi di fatto è impossibile sono movimenti che richiedono anni a farsi quindi vorrei sapere se c'è qualcun altro che vuole venire qui a parlare perché poi anche viene videoregistrato e quindi lo sentono tutti motivo per motivo in più perché non vengono adesso esatto forse non dovevo dirlo però non siete timidi ma anche dal posto non venite qui al microfono alzate di voce alta se no diventa troppo ecco qua però voce alta per piacere perché così sentono tutti grazie a parlare di sentire magari un progetto ma anche un progetto che potrebbe poter 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 fare anche se magari non si è quando non si vuole il futuro ma quando ci dovremmo mettere conto magari questo progetto non è adatto alla comunicazione di un progetto di un progetto sempre pronto e per pronto vogliamo comunicare in una vista come facciamo se in realtà c'è un progetto un progetto c'è un limite che è un progetto come quando magari dobbiamo andare a un progetto anche se in realtà quello è il limite è quasi una maratona nel senso devi trovare il tuo limite fisico mentale di determinazione che non è facile e voi comunque entrerete in un mestiere che come detto fin inizio non è facile perché non siamo solo noi in quest'aula ma ci sono milioni di designer più o meno utili inutili come lo scopri non lo so dipende in genere è dalle grazie manograzie che le aziende ti dicono a fine incontro se riesci se hai la fortuna di avere anche di arrivare al livello 2 come il videogioco level 2 ti invitano per un incontro e hai la fortuna di persona e ve lo consiglio sempre mai mandare cose via email perché le cose via email sono non legge più nessuno andate di persona di persona presentate il progetto spiegatelo e gli potete convincere ancora di più se interessa interessa va se non interessa non interessa provi 2 3 4 volte dopodiché dopodiché lo senti anche tu se non ci dormi notte sopra vuol dire che devi farlo se invece dopo un po' lo accetti forse c'è anche una selezione naturale molto molto spietata anche all'interno della nostra testa a volte ci sembra di aver fatto il progetto più bello nel mondo lo lasci lì un po' a lievitare di notte torno il giorno dopo dici schifezza meglio ma quando mai l'ho fatto a me succede tutti i giorni se non succede o siete dei geni oppure sbagliamo in qualcosa però è sempre difficile trovare la misura giusta l'equilibrio e creare un oggetto che ha valore tecnologico umano di narrativa ci provi ormai con le aziende è sempre molto più più difficile perché ripeto noi cresciamo ma l'out si sta ristringendo anche dei prodotti bisogna provarci se poi uno si scoraggia forse anche quello è già una selezione naturale del mestiere come in tanti altri mestieri e forse lì bisogna un po' costruirsi le spalle e i polmoni per resistere io credo due o tre volte nel macchieriero ho pensato di cambiare mestiere non saprei cosa fare perché ho già capacità manuale quasi zero le dita ti posso assiccia quindi non posso neanche fare meccanica no però a parte di scherzi nel senso ci saranno ed è naturale come se quando si corrono maratona c'è un chilometro in cui la fine dici il corpo ti dice no ti mollo però lì la forza che dobbiamo avere per continuare nonostante le difficoltà e ci saranno quindi bisogna vedere quanto e come si vogliono poi assorbire e tollerarle quello credo che si definisca anche parte del profilo del designer avere questa forza interna e bisogna averla ma credo come in ogni professione ogni mestiere nel senso non siamo né dei privilegiati né delle vittime come tutti i mestieri ci sono ci sono delle ambizioni nostre personali che spesso non si sposano con delle logiche molto più ed è quello che vi scontrerete meramente commerciali nel senso che se non fa se non fa numeri non vende certi numeri non riescono a coprire i costi di produzione specialmente di stampi che sono molto costosi quindi ci vuole anche la fortuna poi di trovare magari una persona come Alberto Alessi o altri industriali nominati che anche loro se avete mai modo di vedere mi auguro una lezione una presentazione di Alberto Alessi loro hanno sviluppato negli anni questa letteralmente questa questa equazione formula in cui inseriscono i parametri se tu vai da Alessi e gli presenti un progetto non ti dicono sì o no lo mettono in questa specie di cervellone elettronico in questa equazione che esiste e ne ricavano dei parametri che dovrebbero dare delle indicazioni se il progetto avrà fortuna o meno lo spremi a gumi di Stark ad esempio credo avesse un punteggio bassissimo diventato uno dei progetti più visibili prodotti al mondo io ho sempre fatto medio buono niente di eccezionale però è comunque andata bene grazie a Dio però anche Alberto Alessi dice che è impossibile nonostante ci sia questa equazione questi parametri che gli possono dire se un prodotto andrà bene o male lui stesso comunque dice che è inutile perché non fallisce in maniera puntuale quindi come si fa un po' tutto molto organico c'è una verità c'è una verità sì e no sì e no nel senso l'Italia non l'ho mai lasciata tanto per cominciare nel senso c'è sempre nel cuore di lavoro sono sull'aereo una volta sì una volta nel mese perché in Italia si produce il design non si fa altro dove si fa in Italia quindi in quel senso non l'ho lasciata però l'ho lasciata perché ripeto differenza vostra il mio percorso è più architettonico e io già al terzo anno avevo voglia di fare io vedevi i miei colleghi al sesto ottavo anno con i capelli grigi fuori corso che fumavano diciamo io non voglio fare quella fine non voglio uscire dalla facoltà a 35 anni e non so come si mette un mattone e Londra era a differenza dell'Italia dove ad esempio in Italia trovavi lo studiolo di architettura si divano qualcosa vedevo che costruivano a velocità stratosferica rispetto alla nostra la nostra siamo belli e dannati perché siamo circondati da bellezza antica però è anche la nostra croce perché non riesci non ti fanno costruire non si vuole ieri Michele mi ha fatto fare un giro veloce quello è quell'edificio di marmo super moderno la banca popolare è sul lungo mare di Bari non so se avete presente l'edificio della banca popolare ho detto subito ah ma bellissimo la morale bellissimo Michele mi dice ha creato invece molte molte polemiche e questa è l'Italia il bello e il brutto al nostro paese in Inghilterra invece è molto più free nel senso si costruisce anche bene più o meno e vuole far parte di quel treno vuole essere parte di quel treno che continua a andare a costruire e solo per farti un esempio in Italia anche quando sei laureato se tu vuoi fare tirocino come architetto sono zero euro a suo tempo zero lire io quando mi accettarono mandai la domanda il mio curriculum e mi risposero ed ero al terzo anno di università mi dissero sì ti prendiamo per l'estate e questo è il tuo stipendio se non mi dici se non motivo bobo per andare in Inghilterra non lo so qual è ed ha continuato in quel senso ha continuato a premiare nonostante i sacrifici perché comunque il resto rimango un emigrante premia in quel senso il sacrificio e mi ha messo a lavorare per un edificio per la Microsoft a Cambridge io ho sbarbatello che ancora a Casero lì con le prime nozioni di AutoCAD mi ha messo a fare non molto forse nobile ma il disegno delle fondazioni per questo edificio Microsoft e torni a casa che ti senti perlomeno e quell'edificio poi l'hanno fatto dopo due anni quindi dici ah io ho fatto le fondazioni che non le vedrà nessuno però io so che sono così perché ci ho messo a lavorare e quindi ti dà quell'opportunità Londra per me poteva essere Timbuktu come Parigi come non so San Marino però in quel momento si costruiva e c'era un aspetto molto più meritocratico anche rispetto verso i giovani che rispetto all'Italia rimane però non vuol dire che se rimane in Italia non succede è un po' più il percorso è diverso ma ti dico anche hai ragione la mia quello che pago come trade off come compromesso è il fatto che molti colleghi di base italiane se vogliono fare un progetto in azienda o in autoproduzione prendono la macchina un'ora e sono arrivati dal produttore io invece devo prendere l'aereo 5 ore e spendere 500 euro per vedere se quel pezzo di non lo so di fresatura o di marmo può andare bene quindi in quel senso il rischio c'è il prezzo si paga ma è tutto un compromesso alla fine nel bene nel male non ne ho idea la ricerca è il compito deve farli voi nel senso è anche una questione di carattere io sono sempre stato un po' più inglese che italiano quindi su tanti aspetti ero già ero già destinato non lo so nel mio caso l'architettura l'Inghilterra per me aveva un'architettura che mi piaceva come contenuti valori tecnologia mi attratto ma non vuol dire che nello stesso tempo in Spagna o in Portogallo ci sono architetti fantastici non era non era il mio non era il mio interesse però è una questione puramente personale dipende se magari avete già una seconda lingua che non è magari l'inglese che ne so magari il francese lo spagnolo sono tanti sono tanti elementi e poi ripeto non è necessario uscire io ho avuto questa questa urgenza di farlo per tanti motivi ma rimane di fatto che comunque il design il sistema design storicamente è ancorato in Italia scusatamente per il sistema produttivo che ancora nessun altro c'è c'è chiaramente la Cina che è un colosso di produzione di manifattura incredibile però non c'è lo stesso dialogo soprattutto intellettuale che ci può essere fra un designer e una realtà produttiva come come tante come Alessi Agape come anche meno famose la scelta la scelta è vostra se partire ma soprattutto fare i compiti una ricerca che è anche una componente molto personale di affinità lettive con un paese con il linguaggio e con la produzione cultura enorme c'è una gravina come si dice di mezzo fra ma solamente perché il design italiano mente design italiano avveniva e come dire era nel pieno fiume di intensità negli anni 60 70 e spero che voi studiate anche la storia del design italiano perché quello che è stato fatto è difficile ricrearlo in Inghilterra non c'era quella cultura adesso forse negli ultimi 10 anni c'è la necessità del consumatore medio di adornarsi di un design contemporaneo fino a qualche fino a un decennio c'era ancora un forte sentimento legato alla tradizione c'è un po' di contrasto nel senso le macchine telefoni super moderni fuori parcheggiate magari l'ultima bmw l'ultimo iphone poi vede entro di tutto una mochettina un begiolino sta molto cambiando a livello di produttivo chiaramente sono in completa rincorsa non è minimamente paragonabile l'esperienza di 60 anni produttiva italiana rispetto a quell'inglese però i punti diciamo che la tangenza si sta incrementando ma è ancora molto diverso una domanda nel processo di design qual è attualmente il ruolo dell'esercizio della luce di experience è qualcosa che viene presa in considerazione nel caso del design è solo un target da raggiungere al termine e quale sarebbe l'importanza di avere la possibilità di investire un processo di tagliare e renderlo con la dotazione della luce di experience credo che dipenda moltissimo dalla tipologia ci sono tipologie in cui ad esempio il caso per l'arthritis research UK in cui la UX user experience è il motivo per cui il brief viene generato quindi è squisitamente solamente la reinterpretazione della user experience poi ci sono tipologie dove ammetto io non ho ancora messo mano come l'esperienza digitale l'interfaccia digitale che forse nel passato non so se mi dai ragione o meno era di competenza esclusiva ingegneristica con risultati discrepanti mentre oggi c'è l'esigenza di questa nuova generazione di designer che non vada a creare qualcosa di tridimensionale di forgiato di stampato ma è il disegno della UX bidimensionale come schermo e come esperienza di penetrazione di formazioni e su questo devo dire per vari motivi o anche forse per il mio mancanso interesse non mi sono mai scontrato e poi ci sono tipologie come quelle più più medicali in cui forse è principe altre in cui invece diventa più relativo se ha senso Aspetta non ti vedo alza la mano guardavo già cabina regi sono sempre progetti ventane ma senza contatevolezza e penso che abbiamo un ruolo fondamentale per la realizzazione per il pensare un oggetto anche una situazione di affetto e nel realizzare questo progetto che posso toccare le corde dell'anima che sia anche l'esterno penso che è un ruolo non è una domanda è uno statement su cui concordo pienamente assolutamente l'ho detto prima l'ho detto prima forse male perché il mio italiano ormai è un po' rugginito e me ne scuso di questo ma l'ho detto credo prima a metà presentazione in cui nel momento in cui riesce a instaurare un rapporto emozionale con lo user con l'utente con il cliente il gioco è fatto perché dai vita all'oggetto ma anche dopo che ha espletato la funzione continua a vivere col rapporto l'esempio parliamo di tecnologia per la tecnologia è super deperibile si sgretola velocemente diventa obsoleta questo iphone fra cinque anni diventerà un fermacarte come ce l'ho già quelli prima però se tu vedi ad esempio la macchina il periodo d'oro che Olivetti instaurò come relazioni con designer architetti la macchina valentina di Sozzas chi usa più la macchina da scrivere eppure è un pezzo che tutti quelli che hanno una cultura è un apprezzamento design vogliono avere o ce l'hanno e quello è lì perché è creato quel rapporto emozionale che anche se la funzione diventa desueta non è più così performante ma c'è talmente attivo il legame sentimentale emozionale che l'oggetto è tuo un altro esempio molto caro a noi per tanti punti di vista è il packaging è la plastica monouso più o meno riciclabile non so se conoscete la bottiglia che fece Ross Lovegrove nel 2000 pertinente che è questa bottiglia deformata come superficie che sembra acqua non ce l'avete andatela a vedere metteste to google bottiglia d'acqua Ross Lovegrove e quello è un classico case study perché il packaging per definizione chi se ne frega e creò però invece questo disegno che è in grado di penetrare di contattare la nostra sfera emozionale per cui lo vuoi conservare a differenza di questa bottiglia lo vuoi tenere anche quando è vuoto prima di buttarlo via e lo riusi anzi a maggior ragione quindi si riesce a fare quell'esercizio anche per oggetti che hanno una funzione di contenere packaging una volta svuotata li vuoi tenere anche quello è un bellissimo complimento al prodotto ma anche a chi l'ha progettato e perché si fonda sul legame emozionale che non è una cosa così onirica o leziosa è fondamentale quanto all'utilizzo di tecnologia qual è il consiglio che i studenti di dare ai loro presidenti che pensano di emergere in questo campo nel senso qual è il segreto per quello che viene di tutto successo mi sento come dire a un bambino che Babbo Natale non esiste nel senso non voglio portare non voglio essere ambasciatore di brutte notizie lo ripeto è un mestiere come forse anche tu è durissimo c'è una selezione naturale incredibile quindi è una concomitanza di fortuna di determinazione soprattutto poi non so se lei intenda fortuna come nome riconosciuto tipo che ne so Renzo Piano quello è imprevedibile bisogna essere credo dei geni come loro per essere a quei livelli ma credo soprattutto determinazione perché a differenza di altri mestieri la nostra è una è una battaglia continua una battaglia culturale per essere moderni contemporanei rilevanti è una battaglia contro i budget sempre contro gli appaltatori subappaltatori cliente bisogna essere un po' dei combattenti che non vuol dire essere aggressivi però avere un'innata resilienza all'urto psicologico che il mestiere induce quindi casco invisibile chi riesce a perdurare queste quest'ambiente abbastanza duro ce la fa però c'è anche di base la passione sembrano parole così banali però in realtà è quello di più non so non so anch'io nel senso io ho sempre avuto questa passione molto molto forte ho avuto molta fortuna ma la fortuna aiuta anche gli audaci nel senso che bisogna anche provare in tutti i modi varie strade mai lasciare l'intentato e mai pensare che ah no ma tanto non succederà mai oppure questo progetto non me lo pubblicheranno mai eccetera eccetera e ti assicuro che avendo la fortuna di grazie all'età e al giro che c'è l'onda di poter parlare anche con con colleghi molto più bravi e famosi di me io non sono famoso loro si e capisci che non è solo nostra non è mia tua ma è anche loro anche loro una battaglia continua io una volta ho avuto il modo di parlare con con Zadide e lei stessa disse è una battaglia continua se non hai se non hai gli attributi e lei da donna lo diceva non hai attributi cambia mestiere se vuoi mestiere più facile non fai l'architetto quindi in sostanza è un po' non è molto ottimista però non è neanche pessimista è possibile no vai c'è l'ultimo facciamo l'ultima domanda secondo te il futuro il design della sua stile diciamo omogeneo oppure si manda un'altra stile in generale non so cosa voglia dire stile no lo so ma non è non fa parte stile per me va e viene una cosa che non mi interessa non mi interessa è quello che le rispondo facendo citando le slide che ho fatto all'inizio non voglio essere troppo autoreferenziale non dovremmo esserlo per quello che a me interessa guardare i campi paralleli tipo nautica aeronautica anatomia botanica qualsiasi cosa ci volete mettere perché quello si attinge a qualcosa che è già esistente funzionale ha bisogno di evoluzione l'estetica del design per me è una è un come si dice è un accidente è un accident è una determinazione che è una sequenza di altri fattori ma non è un fine per se stesso quindi succede perché ci sono altre ragioni che hanno portato a quel linguaggio almeno che uno non voglia fare lo stilista che è una bruttissima parola non lo auguro nessuno in cui davvero crei qualcosa per se stesso con capricce e forme arbitrarie che non dureranno più di qualche mese devo dire ancora grazie ad Andrea per le sue risposte mi è piaciuto anche tantissimo le vostre domande mi piace perché bisogna tornare indietro nel tempo e stare sui loro banchi per pensare diciamo tutte le paure che un ragazzo che è all'inizio o alla fine dei corsi che si vede davanti tutte queste sfide però le sfide sono le cose che ci rendono vivi e ci rendono anche da sportivi o non sportivi però le sfide sono le cose più belle quindi diciamo Andrea è stato ed è tuttora in continua sfida e anche vedo che cresce non è lo stesso magari di quando ha iniziato questo lavoro e quindi anche voi probabilmente avrete questo percorso quindi io continuo a ringraziare voi per essere stati qui Andrea per essere venuto e tutta l'organizzazione quindi faremo un ultimo applauso e grazie ancora grazie a voi grazie a tutti